Gianfranco Miccichè resta alla guida di Forza Italia in Sicilia. Il presidente dell'ARS è riuscito a superare la fronda di deputati mostratisi a sorpresa lui ostili. Tre assessori regionali e sette deputati su 13 all'Assemblea regionale avevano contestato nei giorni scorsi Miccichè e la sua linea in vista della campagna elettorale per le regionali e per le comunali di Palermo. Ora Miccichè considera i contrasti superati. Dopo aver visto questa mostra mi viene a dire che questo ennesimo, venticinquesimo attacco di alcuni miei colleghi, dei miei confronti, non vorrei che un giorno mi dovessero fare le fotografie tipo le donne africane perché è stato di una violenza, di una, come dire, esagerato, veramente esagerato. Nella politica ci sta tutto, nella politica ci sta la lotta tra partiti e all'interno dei partiti la lotta tra fazioni o tra correnti. Io qua correnti non mi ero accorto neanche che ci fossero, infatti non ci sono. C'è questa, da parte di qualcuno più giovane, questa immaginazione di dover essere prima o poi lui a comandare. Lo dico sinceramente perché mi devo aprire prima o poi devo dire le cose per come le penso e per quelle che sono. E per cui periodicamente, periodicamente con alleanze variabili a secondo chi è quello che in quel momento è scontento e lo si va a chiamare, e partono questo tipo di attacchi. Veramente c'è chi dice di avere il pelo sullo stomaco, io c'ho la mochetta ormai, per cui ormai è la centesima volta che si ripete sempre la stessa operazione. Certo, sono di quelle cose che poi un minimo di amore nei confronti della politica, nei confronti del lavoro che uno fa, te lo fanno anche tranquillamente. D'altro canto io ho 68 anni, quello che dovrebbero capire alcuni è che o pensano veramente dell'immortalità, o tra un moto non è che potrò stare qua. Per cui forse la cosa migliore è che abbiano l'intelligenza di avere pazienza. No, ma no, 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 in quell'incontro no, infatti anche questo, l'altra di quelle cose, sembra che erano uscite in nome da quella riunione, non si è mai fatto, cioè non si è parlato un solo secondo di comunali in quella riunione. Quella riunione è tutto di re della sua ambientale, parliamoci chiaro, è inutile prenderci in giro. Quella era proprio una, se ne è parlato proprio, se non sarebbe stato presente quantomeno, voglio dire. Ma si è messa in discussione la sua leadership in Sicilia. Come? Ma si è stata messa in discussione la sua leadership, dico, come alla guida della regione. Dal 1995 succede. Grazie. Grazie. Grazie.